Allora, siamo in diretta? No, siamo in registrata. Ben ritrovati amici di RomaGiallorossa.it da parte di Marco Violi. Allora, facciamo luce un pochino sulla questione Raffaello Foglieri Roma, perché abbiamo ricevuto un documento molto importante, lo trovate già su RomaGiallorossa.it io ho il dovere da giornalista di dare spazio a tutti. RomaGiallorossa.it faccio questa piccola premessa, dà assoluto spazio a tutti, a tutti coloro che vogliono fare un qualcosa se c'è una persona, un soggetto interessato ad acquistare la Roma, noi gli diamo spazio perché è giusto che sia così, perché noi siamo per la pluralità di informazione, siamo per l'informazione indipendente. Ripeto, RomaGiallorossa.it non dipende né da network né da editori, io sono l'editore di me stesso, l'editore e il direttore responsabile in questo caso di RomaGiallorossa.it confluiscono nella stessa persona che Marco Violi, io sono proprietario unico di RomaGiallorossa.it e questo è il discorso. Detto questo andiamo ai fatti cercando di essere molto molto brevi. Allora, io vi leggo un comunicato che ci ha inviato in esclusiva l'avvocato Mattia Romano del Foro di Roma, tra poco vi mostreremo anche un documento, anzi due documenti inediti. L'eco testuale, quello che ci ha inviato alla nostra redazione è l'avvocato Mattia Romano del Foro di Roma, che rappresenta il dottor Foglieri, Raffaello Foglieri, e che è un'informativa per la stampa sull'offerta di Raffaello Foglieri per quanto riguarda l'AS Roma. Ve la leggo, la trovate anche integralmente su RomaGiallorossa.it con la presente comunico di aver ricevuto in carico da Mr. Raffaello Foglieri, attualmente all'estero, di perfezionare la trasmissione via post elettronica certificata dell'offerta di acquisto dell'AS Roma già a suo tempo inviata, che potrebbe non essere stata ricevuta poiché trasmessa da provider estero non europea. L'offerta di acquisto pari a 840 milioni di euro è corredata da una roadmap dettagliata delle procedure da seguire per il perfezionamento dell'operazione. Lo staff incaricato da Mr. Foglieri resta in attesa di un eventuale riscontro al fine di programmare e dare esecuzione nei tempi indicati nell'offerta alle attività necessarie dell'acquisizione definitiva dell'intera partecipazione societaria. Allego copia delle ricevute PEC in data 14 agosto 2023, Mr. Foglieri si riserva di perseguire in ogni sede giudiziaria ulteriori tentativi volti a screditare la serietà dell'iniziativa e anche mediante strumentali riferimenti alle vicende giudiziarie pregresse nelle quali dopo il pronunciamento dell'autorità giudiziaria degli Stati Uniti è stato sempre prosciolto. Cordiali saluti, avvocato Mattia Romano per incarico ricevuto da Mr. Raffaello Foglieri. Allora, io apro insieme a voi l'invio della PEC, adesso la mostriamo, tra poco la mostriamo, prima me la vedo io, eccolo qua, invio della PEC, adesso vedete me nello schermo piccolo e la PEC, eccola qua, la PEC, la PEC, la PEC, allora c'è la data 14 agosto 2023, ore 22 e 28 e 36 secondi, posta certificata a Mattia Romano, ordine avvocati Roma, tipo ricevuta di avvenuta consegna, consegna proposta acquisizione capitale associata S Roma, c'è gli allegati, naturalmente gli allegati siamo qui, non ci hanno fornito gli allegati, non ci hanno fornito chiaramente il contenuto, ma sappiamo che di 840 milioni l'offerta, e poi c'è ricevuta di avvenuta consegna il giorno 14 agosto 2023, alle ore 22 e 28, 36 secondi, eccetera, il messaggio proposta acquisizione capitale sociale AS Roma, provenienti da avvocato Mattia Romano, ordine degli avvocati Roma ed autorizzato a, ed indirizzato scurato a AS Roma SPA, pioccia legalmail.it, è stato consegnato nella casella di destinazione, questa ricevuta, questa garanzia è fermata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria, identificativo messaggio, abbiamo tutto, lo potete leggere, è un codice, non ho visto qui a leggere adesso il codice, ma è tutto fatto, poi andiamo avanti, c'è la consegna della PEC, la consegna della PEC, che adesso vi faremo vedere, eccola qua, è questa, la consegna della PEC, è praticamente la stessa, cioè è stata consegnata la PEC, ricevuta, vedete, tipo ricevuta di avvenuta consegna, e poi è praticamente lo stesso messaggio di prima, ma con la ricevuta di avvenuta consegna, questo è quanto, possiamo tornare anche qui in diretta, cioè in diretta, in video, allora questa io naturalmente non, cioè, se la Roma l'ha ricevuta o meno, io credo di sì, perché c'è la ricevuta della consegna, quindi il 14 agosto l'avrebbe dovuta ricevere, no? Cioè è stata inviata prima all'11 agosto e poi un'altra volta, una seconda volta, il 14 agosto, tramite anche l'avvocato Mattia Romano. Detto questo, io credo che chi metteva in dubbio qualcosa, anche le nostre informazioni, che delle smentite della Roma, eccetera, le smentite possono avere un peso, ma poi quando si portano i documenti alla luce del sole, penso che le smentite abbiano anche poca consistenza. Detto questo, è una situazione da parte della Roma, dico, perché Foglieri sta facendo tutto alla luce del sole, poco, secondo me, da parte della Roma, ripeto, poco, come dire, poco chiara, perlomeno, perché non bastano tre righe di comunicato per smentire un'offerta. Quando c'è un'offerta mandata, inviata, tramite PEC, una prima volta, ok, non è stata ricevuta, la mandiamo il 14, ok, adesso è stata ricevuta o no questa offerta, arriverà un altro comunicato o no? Cioè, questo è il discorso, no? Quindi noi vi abbiamo mostrato i documenti, ripeto, eccoli qua, questo è il primo, invio PEC, questo è il secondo, consegna PEC, vi facciamo vedere di nuovo, invio PEC, questo è il consegna PEC, questo è il biopec, e questa è il consegna PEC. Quindi, ragazzi, che vi dobbiamo dire? Le nostre informazioni erano giuste, noi ci asteniamo da ogni commento, ma non perché abbiamo paura, perché evidentemente i regali si muoveranno, i regali della Roma, i regali di foglieri, spero che tutta questa manfrina, che non è vero, di qua, di là, vi inventate tutto, mi permettete, mi permetterete, non ci sto. Quando abbiamo delle informazioni, le abbiamo da diretti interessati, punto. Tra l'altro, nel pomeriggio stiamo lavorando un'importante, esclusiva, torno a parlare dopo tanto tempo un personaggio, non vi dico chi, vediamo se ci riesce, vi consiglio di ascoltare la web radio di Roma, giallorosa.it nel pomeriggio, vedremo se riusciremo a fare questa cosa o meno, anche perché la persona interessata è in vacanza, quindi ci sta facendo una cortesia, e faremo un po' luce, un po' su tutto. Torneremo con gli speciali di mercato, con le notizie di mercato, nelle prossime ore, giorni, eccetera, è chiaro che lascia poi ogni interpretazione, fatevi l'idea che meglio crediate, e che meglio credete, grazie mille per la visione, like, condivisione, eccetera, ragazzi, per il momento, l'abbiamo solo noi, questo documento, e lo trovate già pubblicato su romangelo.it, like, condivisione, e naturalmente iscrizione al canale, se volete. Un abbraccio a tutti voi, grazie mille per la visione.